Quindi questa è la matriciana fatta da Benny, speciale, l'unica del mondo, voi che state vedendo, siete benvenuti a matrici, finalmente dopo cinque anni, siete benvenuti, questa è la matrice di Benny, un produttore di tartufi, fatta un ottimo, dopo averli di Bretman, vende tartufi di tutti i tipi, funghi porcini, anche il bianco già, andiamo? Come potete vedere la magica è pronta, guarda la pelli, quindi voi che state vedendo, siete benvenuti qui, questa è proprio la magica, la magica. Vai, 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 vai un altro, bisogna dare caldo, calda, 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 calda. L'ario messo caldo, se aspetti non sporcare, non sporcare. Come potete vedere le palle ce ne ha un altro pezzo, poi non lo scontro. Ma io dico come fate a vedere, guarda, sono parole, fate venire l'ansia e le... Ma che stai riprendendo? Sì, sì, sì. Oh mio Dio. Bene, abbiamo tutti questi. Dai, questi dai. Quindi questa è la mangiata. Vado io o vado tu? No, no, lui. Ma che non so che l'ha preso? Eh, senti. Io sono pronto. Mi fai una foto alla sala mentre mangio una matriciana? Certo. Bravo! Perché? Perché il brusso vai tutto. Ma che forza bello, non lo staccato. Ma questa è la canzone. E' proprio quella che stai mettere. Infatti, mi dai un canovaccio, lo sai? Non lo vede nessuno il bordo. Ma è bollente, è bello. Ah, io che dovevo pulire la pesina. Ecco.